Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale del Gemma Gamer Oggi siamo qui in un nuovo video su FIFA 19 Questo video dovevo uscire sabato ragazzi Che è il video delle tattiche che mi hanno permesso settimana scorsa di fare fuori classe 1 E sono le stesse tattiche che ho costato questa settimana Che mi hanno permesso anche di fare un bel punteggio Ragazzi calcolando che venerdì avete visto il live ho avuto due sconfitte abbastanza pesanti Però poi nel recap di domani vi farò vedere come è andata la weekend league di questa settimana E adesso concentriamoci sulle tattiche che ho utilizzato sia questa settimana Per fare il punteggio che vedrete domani E sia settimana scorsa che mi hanno permesso di fare 27-3 Allora partiamo dal presupposto che io ho usato questa formazione Quindi gli stessi che ho usato settimana scorsa li usate anche questa settimana Anche i panchinari questi qui Allora andiamo a vedere le tattiche Io gioco ragazzi personalmente con il 4-1-2-1-2 Io comincio la partita così Comunque vi faccio vedere tutti e quattro moduli che uso Allora utilizzo il 4-2-3-1 ultradifensivo con ripiega Quando proprio voglio difendermi e vedo che l'avversario è abbastanza forte Poi uso il 4-2-3-1 equilibrato E equilibrato quando non riesco a giocare col 4-1-2-1-2 Perché ragazzi quando i server sono abbastanza lenti La partita è lenta Utilizzo il 4-2-3-1 Quando invece il server è veloce Quindi che è molto fluido Il 4-1-2-1-2 è il miglior modulo che potete utilizzare Perché è veramente spettacolare Poi quando voglio recuperare la partita Che sono sotto negli ultimi minuti Utilizzo il 4-2-4 Che è uno dei migliori moduli offensivi Però ragazzi vi scoprirà tutta la difesa Però ovviamente se dovete provare Se non avete nulla da perdere dovete segnare E dovete purtroppo fare così Allora andiamo a vedere la tattica principale Che è quella che ho utilizzato praticamente quasi sempre Questa VL perché non ha avuto problemi di serve Allora Partiamo dallo stile di difesa ragazzi Stile di difesa equilibrato Che secondo me è il migliore Perché quando andiamo già a mettere pressing Soprattutto sul primo controllo Tendono a crearsi facilmente dei buchi In tutte le zone del campo Perché ovviamente cosa succede Appena il giocatore avversario tocca palla Quindi se fa un fraseggio veloce I giocatori andranno a pressare Ogni giocatore che prendrà la palla Per la sua prima volta Quindi ragazzi Vi troverete molto probabilmente Come anche fa vedere l'immagine in basso Che per seguire questo qui Tutti si abbassano In basso al campo Nella zona bassa del campo E quello è l'avversario A modo di girare palla sopra Quindi si trova libero Pressing una volta presso la palla Più però è la stessa cosa Quando voi perdete palla C'è un pressing Di 7 secondi Sul portatore di palla Però vi va a creare buchi Quindi ragazzi Io il pressing Li uso semplicemente Solo In Rivals Che in Rivals Ho notato che funziona maggiormente Il pressing Sul primo controllo però Gli altri no Perché il pressing costante Ragazzi non lo mettete minimamente A meno che non dovete recuperare la partita Perché i giocatori proprio arrivano Al primo tempo già sfiniti E poi ripiega È una tattica che non mi piace utilizzare Perché mettendo ripiega Praticamente voi permettete Il possesso palla all'avversario Ok E la vostra scuola si schiaccia Avendo questa impostazione Molte volte noto Che la ripartenza è molto lenta E mi ritrovo spesso andando in attacco Con una gente a cui passare palla Quindi equilibrata È secondo me la tattica migliore Così anche come quella dell'attacco Comunque utilizzo 5 di ampiezza 4 di profondità Che è una via di mezzo La profondità nostra Non è troppo schiacciata E non è troppo avanti Mi piace difendere così E l'ampiezza È un'ampiezza Che mi permette di stare tranquillo In tutte le zone del campo Avendo un 4-1-2-1-2 Perché ho i cc molto larghi Quando difendono E ho un cdc centrale Che li dico di maniera al centro Poi vediamo Quindi è perfetta come cosa L'attacco Utilizzo equilibrata Perché ho provato palla lunga E non mi ci trovo Non è nel mio stile Manovra veloce Vi lascia troppo scoperti dietro Possesso palla È un nì Perché con questa pace Praticamente quasi impossibile Fare possesso palla Molto difficile Quindi ci vuole un giro palla Abbastanza veloce E equilibrata Come sempre La migliore Qui utilizzo 6 tacche di ampiezza Ragazzi Perché mi piace attaccare Molto largo Mi piace avere quasi Cc come stenni Quindi è molto comodo Perché infatti Non so Se avete visto Qualche live Molte volte si trova Pogba Largo Che va a crossare E Pogba Quando crossa È fenomenale Oppure si trova Pogba Andrà a tirare di testa Perché entra in aria Che gioca largo Giocatori in aria 4 Massimo 5 Perché quando ne mettete Molto di più Vi ritrovate anche il cdc in attacco E non avete a chi scaricare palla Quando state facendo l'azione in attacco Non vi rimane nemmeno il cdc dietro Perché sono tutti in aria Quindi creare un'azione Non avete punti di riferimento Quindi preferisco avere 4 Massimo 5 Che almeno Un cc e un cdc Mi rimangono fuori dall'aria E posso girare palla Fin quando non riesco ad entrare in porta Angoli Vabbè questo è personale Angoli 2 Perché non voglio che sargano troppe Punizioni 1 Perché non voglio rimanere scoperto Ma questa è una cosa che è personale Questa potete fare come volete voi Potete anche mettere 3 3 3 2 E' uguale Come istruzioni Abbiamo E due attaccanti Inserisci dalle spalle Al cc rimane avanti Semplicemente E due cc nulla Perché Faranno tutti da sole Fanno da sole Sanno loro se inserisci o meno Poi ovviamente in base ai giocatori Io avendo Pogba e Seto Mi ci trovo benissimo Infatti Penso di non cambiarli Perché Pogba lo cambierei Semplicemente con Ballack Prime Oppure con Pogba If O Sif Perché Pogba è veramente uno di quelli fortissimi Soprattutto adesso che Ci sono quei cross con il Tornado Quei cross con l'alzamento della palla Lui con 5 skill è fenomenale Al cdc abbiamo intercetta Linee di passaggio Restate in attacco E copertura al centro Perché non voglio che se ne va Girando in tutto campo Perché sulle fasce Abbiamo Pogba e Setorf Che sono molto fisici E coprono E quindi lui deve rimanere al centro Al massimo lo faccio spostare io Dove voglio In base a come gioco all'avversario A Marcelo e Walker Quindi terzini Restate in attacco Queste sono le tattiche Che uso io appena comincio la partita Quando il gameplay è un po' più lento Utilizzo più o meno le stesse tattiche Però col 4-2-3-1 Ovvero equilibrata 5 tacche di ampiezza 4 di profondità Attacco equilibrato 5 di ampiezza Che non mi piace essere troppo largo Perché si spappagliano un po' i giocatori Con questo modulo 4 di giocatori in aria Come sempre 2 angoli e 1 punizioni Le istruzioni sono Inserisci le spalle Rimani avanti per la punta Ora non fateci caso Come anche qui c'è il Setorf Perché di solito Quando metto anche il 4-2-3-1 Setorf lo cambio Metto Molte volte Maximin O altrimenti Sterling Ai 3-C-O-C Metto Rimani avanti Entro in aria E svaria Vedete Al-C-D-C Intercetta Aria di passaggio E resta dietro in attacco Molte volte Quando comincio la partita Pogba gli metto Di non restare dietro in attacco Per cui lui è molto più offensivo E quindi Li dico di salire Però Con il gameplay E lento Preferisco stare ben posizionato Dietro Quindi rimango tutti e due I C-D-C dietro Ai due terzini Di restare dietro Ovviamente Perché non voglio Non voglio che si scoprano troppo Quando invece la partita È sofferta Utilizzo Le stesse tattiche Del 4-2-3-1 Normale Però ragazzi Con ripiega E tre tacche di profondità Quindi la difesa La tengo molto dietro E soprattutto Nelle istruzioni Metto Non metto Inseriscite alle spalle Ad Ibra Ai 3-C-O-C Di rientrare in difesa Resta dietro Intercetta Ai C-D-C E resta dietro Ai terzini Di modo che ragazzi Stiamo tutti schiacciati Per difendere la porta Perché Ci sono partite Veramente che bisogna Chiudersi in difesa E fare anche un po' Melina Se potete mettere Eventualmente O palla lunga Per prendere palla E spazzarla O manovra veloce Per ripartire Però lo sconsiglio Perché alla fine Se andate a ripartire In contropiede Rischiateli in bucala Lo stesso Quindi io uso sempre Equilibrate Che è la cosa migliore Secondo me su questo gioco E poi andiamo ad iniziare L'ultima tattica 4-2-4 Guardate Pressing sul primo controllo Andiamo a fare un pressing Per quando controlla lui la palla Poi Ampiezza 5 Perché il modulo È già abbastanza largo Quindi Non vado a aumentare molto La profondità 6 Che ovviamente Dobbiamo un po' Andare in avanti Poi abbiamo Manovra veloce Per costruire più veloce Mettere azione 6 Tacche di ampiezza 8 di giocatori in aria Perché ovviamente Dobbiamo esserci tutti 3-3 In angoli e punizioni Come istruzioni abbiamo Rimani avanti a tutti E inserisci dalle spalle Attacco equilibrato Ai cdc Ai cc Perché devono anche loro alzarsi E poi Sovrapponiti ai terzini Queste sono le tattiche Che mi hanno permesso Settimana scorsa Di fare 27-3 E questa settimana Ragazzi Lo vedete domani Che sto preparando il video Del recap E non voglio anticiparvi nulla Perché Sarebbe veramente Un video troppo lungo Da far vedere Già questo è abbastanza lungo Adesso l'unica cosa Che sto valutando È se portare Enaki Williams In panchina Al posto di Martinez Però ragazzi Martinez Mi sta stupendo Perché io lo faccio Entrare cc Molte volte E ha un valore interessante Che è L'elevazione Ha elevazione 91 In più ha un bel tiro Ha una grandissima agilità E anche l'equilibrio Vedete 99 Quindi difficilmente Lo spostate E soprattutto Ha Nonostante Ha il walk Che è il salto normale Con quella sua velocità Ragazzi Fa avanti e indietro È diciamo Un Seedorf più piccolo E mi va ad aiutare molto Anche in fase difensiva Mentre Inaki Williams Ha alto alto L'elevazione 89 Però è equilibrio 58 Quindi l'equilibrio Molte volte Mi dà problemi Perché infatti L'ho provato anche lui A mettere cc Però La prima spallata Anche già con un giocatore Un po' più forte Nonostante ha 88 di forza Lo sposti E perde spesso palla Mentre Martinez Ragazzi Una sicurezza Infatti Lo sto tornando a usare 45 gol E 32 assist Tanta roba E come vi dicevo Con questo modulo Ragazzi Sta rinascendo Pogba Guardate quanti assist Mi ha fatto 67 Era tipo a 40 A inizio di questa Weekend League Me ne ha fatti 27 di assist Veramente In questo modulo Devastante Mi ce sto trovando bene Detto questo ragazzi Fatemi sapere Se Queste tattiche Vi saranno utili Spero di sì Lasciate un mi piace Condividete Iscrivetevi al canale Noi ci si becca domani Per il recap Della Weekend League Un saluto Da Gemma Gamer Ciao